Qui è perché come me siete un po' curiosi di come è nato, di che significato abbia soprattutto quello che cantiamo come inno, l'inno di Mameli. A parte che a me ogni volta che lo sento, cioè, proprio sale un'emozione fortissima, un senso di appartenenza. Non so se succede anche a voi e mi viene molto spontaneo mettere la mano sul cuore. Comunque, ho cercato un po' di informazioni, perché io non sono né uno storico, né uno studioso di inni, ma ve le dico un po'. Era il 1846 quando Mameli decise di scrivere questo inno, che non era un inno, era una canzone, si chiamava Fratelli d'Italia, quindi aveva già chiamato fratelli, non amici, abitanti, eccetera. Perché l'idea proprio del nostro inno è quella di stare uniti, di stare vicini. Però non è che è partito con l'idea di fare l'inno proprio nazionale. Solo più tardi, nel 1946, ho letto queste cose qua, non è che le so anche io, con De Gasperi, si decide di tenerlo come inno provvisorio per una manifestazione che c'era lì in quei giorni. Però, tornando a prima, Mameli ha scritto il testo e poi l'ha portato a Novaro, che era questo compositore che, insomma, lui scriveva musica patriottica. Cioè, lui aveva questa sensazione di voler celebrare la patria. E quindi l'ha portato a lui, l'ha musicato, ed è quello che è diventato oggi il nostro inno nazionale. Vediamo, io ho, insomma, cercato di capire e cercato di spiegarvi solamente le prime frasi, perché l'inno è molto lungo. Quello che noi cantiamo è solo una piccolissima parte, però cerchiamo di capire almeno quello che cantiamo, che così dalla prossima volta sappiamo cosa cantare. Magari ce la maniamo anche un po' a cena con gli amici. Sai cosa significa l'inno? Vabbè, partiamo. L'Italia, l'Italia sedesta, dell'elmo di Scipio, se cinta la testa. Quindi già anche lì, fratelli d'Italia, no? Come dicevamo prima, l'Unione. L'Italia sedesta, cioè se svegliata, in qualche modo c'era il fervore dell'unità nazionale, e dell'elmo di Scipio, che era Scipione l'Africano, un grande comandante romano che aveva vinto tantissime battaglie, quindi l'idea di mettersi idealmente questo elmo di Scipione ci rendeva praticamente invincibili. E quindi l'Italia se cinta la testa dell'elmo di Scipione, di Scipio. Quindi, come dire, la vittoria è sicura. Le porgan la chioma, che schiava di Roma e Dio la creò. La vittoria non è vittoria, la vittoria, è la dea della vittoria, no? Perché si parla di chioma, cioè di capelli lunghi? Perché in quel periodo lì le schiave venivano rasate, per cui le donne che non erano schiave portavano i capelli molto lunghi per far vedere che loro non lo erano. E allora, Mameli cosa dice? Vittoria, dea vittoria, guarda, porgici già la chioma, facci vedere i tuoi capelli, perché siamo pronti a tagliarteli, perché sarai schiava di Roma, perché Dio ti ha creato così. Quindi, cioè, la vittoria sarà praticamente sicura al 100%, quindi prepara già i capelli che noi te li tagliamo e diventerai anche tu una schiava nostra. Quindi l'Italia che vince, di sicuro. Stringiamoci a corte, siamo pronti alla morte, l'Italia chiamò le corti, erano praticamente delle piccole, insomma, grandi unità di soldati, circa 600 soldati, che si muovevano e andavano a lottare. Quindi stringiamoci, vedete che bello che è? Cioè non mettiamoci a corte, creiamo una corte, no, no, stringiamoci, stiamo uniti, ok? Perché così riusciremo sicuramente a vincere. E infatti, insomma, stringiamoci a corte, l'Italia chiamò, e addirittura noi siamo pronti anche alla morte, pur di fare vincere l'Italia, pur di far vincere l'idea della patria. Forse è proprio per questo che mi emoziona così tanto, perché ci dà proprio l'idea di essere uniti. E noi italiani, secondo me, quando vogliamo, anzi sempre, secondo me sempre, siamo sempre super uniti. che tiene proprio l'idea di essere.